Benvenuti a tutti ragazzi, qui è Ersato, sto registrando col bellissimo Ditone davanti alla telecamera nel bel mezzo dell'Olanda ragazzi una piccola panoramica, guardate le peste in mondo, ci troviamo in un villaggio di pescatori sperduto ragazzi e sto registrando questo video perché ieri, il 30 agosto 2015, ci sono arrivati una marea di messaggi che mi chiedevano dove fosse finito xDexter perché sembrerebbe che il suo canale abbia chiuso ragazzi e non è così, perlomeno per ora non è così, non si sa bene, ho parlato con Dexter e in sostanza diciamo ci sono state, se vuoi andare sul canale di Dexter, adesso non lo trovate però se siete il link youtube channel xDexter troverete anche un link dimostrativo in descrizione cosa succede? Vi dirà che questo canale è stato chiuso per ripetute violazioni dei termini di utilizzo e di servizio di youtube ovviamente queste segnalazioni, se ci sono state delle segnalazioni non sono fondate quindi in tal caso Dexter riuscirà a riaprire il suo canale, ci ho parlato, adesso sta contattando i servizi segreti di youtube per riaprire il suo dopatissimo canale e altrimenti potrebbe anche essere per segnalazioni di copyright, per strike ma comunque io sono fiducioso sul fatto che il suo canale riaprirà, ragazzi, riaprirà e comunque penso che qualora fosse stato effettivamente chiuso per delle violazioni Dexter non abbandonerà youtube ma bensì, a parte che ha già un altro canale che è GTA Channel, probabilmente riaprirà un altro Dexter il suo gemello no, comunque ragazzi non vi preoccupate, Dexter non è che ha chiuso il canale così per motivi gravi non è morto, non è successo niente, semplicemente un attimo di confusione con youtube, qualche incomprensione le prime crisi matrimoniali e niente, faccio questo video così smettete di bombardarvi di messaggi intanto la gente passa e non capiscono quello che dico vaffanculo vedete ciao